come? no il gioco non c'è ritirarla indietro quella lì e smica una brugola del 3 e te vuoi indietro a mano vuoi mettere i miei attrezzi oh senza perstemmi eh perchè siete in video non fare assembramento siamo qui ah ma porco di galleggiotta aspetta un attimo la mettevo dentro la quattro punti di struttura guardi e adesso c'è la chiave vai che va mamma mia io non riesco a vedere un paio di chiavi su ma non muovi su eh e l'ho tirato indietro e non riesco a vedere ho tirato indietro quello che mi trovano un buco o cazzo la mia è